Grazie a tutti i colleghi, ci hanno poi arrivato nell'attività, in particolare il nucleo Carabinieri del patrimonio culturale di Naboli, rappresentato da una domanda di te che prenderà la parola. E poi voglio ringraziare tutta la comunità di noi oggi, per esempio oggi, i fedeli che sono ricorsi a questa piccola cerimonia. Particolarmente importante è questo evento che stiamo festeggiando oggi, perché per chi lo sa, la settimana prossima per l'Arma di Carabinieri è una settimana particolarmente importante, in quanto il 21 novembre ricorrerà l'anniversario della nostra padrona, la Niko Fidelis. Celebrazione che arriva al 78esimo anniversario e che in questa giornata ricorda tre punti principali, sia la Niko Fidelis, la Madonna, che la Santa Patrona dell'Arma. Però ricorda anche la battaglia di Pulpo, una battaglia che si è svolta durante la seconda guerra mondiale in Etiopia, e dopo un piccolo manicolo di carabinieri e di fattie, che erano gli Etiopi, i militari locali, che ci appoggiavano nei combattimenti, hanno difeso un avamposto italiano, fino al nostro sacrificio.